Collega Fiano, non ci siamo. Non ci siamo in primo luogo perché è e resta illiberale, comunque la raccontiate, ritenere che delle opinioni che a voi e anche a me non piacciono, ma per il solo fatto di non piacere a voi e a me, voi ritenete che queste opinioni non debbano circolare. Questo è illiberale. È invece proprio di un ordinamento liberale ritenere che anche le opinioni aberranti debbano poter circolare. Che liberali siamo se abbiamo paura che nel libero mercato delle idee le buone idee non siano in grado di resistere alle idee cattive? Che liberali siamo se riteniamo che le idee che voi e magari anch'io riteniamo cattive debbano essere messe fuori circolazione? Secondo, chi stabilisce? Lo Stato? Voi? Un politbureau? Un soviet del momento? Il ministro dell'istruzione protempo che stabilisce cosa si può dire, cosa non si può dire, quali immagini sì, quali immagini no, quali gadget sì, quali gadget no? Terzo, è la storia del comunismo, non la potete archiviare così, onorevole Fiano, e vale anche per la nostra gloriosa resistenza. Se siamo persone che hanno occhi per vedere e memoria buona, anche in quella resistenza occorrerà ricordare che c'erano coloro che erano antifascisti in nome della libertà e c'erano coloro che erano antifascisti in nome di un'altra dittatura per imporre una dittatura di segno diverso. E non potete impedire di ricordare questa che è una elementare verità storica. E allora la faccio breve, signora Presidente. La sostanza è questa. Voi siete antifascisti, ma come tanta parte della storia comunista e della sinistra italiana, siete antifascisti, ma non siete antitotalitari. Siete contro alcune lesioni della libertà, ma non siete contro tutte le lesioni e tutti gli attacchi alla libertà. È questo che fa la differenza tra voi e noi, tra comunisti o oggi politically correct, che è il nuovo volto della sinistra da bene, e chi era e l'esta liberale. Grazie.